secondo voi prima o poi ritornerà Brock Lesnar e io vi chiedo contro chi lo fareste rientrare Brock Lesnar vai te Fiend e poi Dark questo dipende da tutti i fattori esterni sono robe che noi purtroppo da distanza così non possiamo minimamente sapere certo se non ci fossero fattori esterni prima o poi Lesnar me lo vedo ritornare io la domanda la metto in un'altra maniera allo stato attuale di ora c'è veramente tanta roba secondo me sinceramente una run da part-timer di Brock Lesnar ora non la saprei nemmeno collocare devo essere sincero non è che ora sento il bisogno di Brock Lesnar l'abbiamo avuto è stato parte importante in alcune storyline anche nel recente però ora c'è tanta roba c'è di intorno a Cody si sta sviluppando tanto con la nuova Bloodline e tutto il resto si è affacciato qualcosa di buono di bello dalla parte di là del titolo massimo c'è tantissima roba da Damian Prista Drew McIntyre che ora va poi vedremo Seth Rollins CM Punk sta arrivando Money in the Bank quindi ci sarà un nuovo possessore di valigetta io nella zona titolata per esempio non è che senta il bisogno di Brock Lesnar e d'intorno sì certo un match glielo potrei far volentieri però magari ecco lontano dai titoli lontano dai titoli vi ho fatto partire intanto un sondaggio voi in chat qui su Twitch se rivorreste rivorreste Brock oppure no votate fateci sapere la vostra Ted Ark invece allora io intanto sono d'accordo con il film quando dice che in questo momento di Lesnar non è che ne abbiamo bisogno nel senso se torna io cioè sono contento perché alla fine avere uno Lesnar in più piuttosto che uno in meno lo fa sempre comodo però non è che mi strappi i capelli se in questo momento non c'è Brock Lesnar appunto perché ci sono tante altre cose molto belli interessanti da seguire in questo momento detto questo secondo me tornerà prima o poi dipende da come vanno con le famose indagini sentenze varie eventuali relative tutto il caso McMeon eccetera perché se lui comunque dovesse rimanere implicato in maniera più o meno compromettente in quella vicenda io non so quanto una compagnia come la WWE si prenderebbe diciamo il rischio di immagine di farlo tornare in caso contrario magari in ultima raglie la potrebbero far fare detto questo dove mi piacerebbe a me vederlo questa era una fissa mia personale da almeno un anno prima della scorsa Wrestlemania poi teoricamente sarebbe dovuto succedere da quello che si vociferava appunto a questa Wrestlemania ma non è successo perché vicende di cui abbiamo appena accennato quindi se mi chiedi Brock ha un ultimo match da giocarsi contro chi vuoi vedere Gunther però è una cosa mia proprio di un mio feticcio personale ecco sì Gunther e Brombreker sono i due nomi che vanno per la maggiore se dobbiamo pensare a un ritorno magari Brombreker se fosse co-vivato da Paul Heyman sì anche se la storia con Paul Heyman alla fine l'abbiamo mezza avuta con Roman Reigns alla fine ha scelto Roman a me piacerebbe vedere Lesnar più non so se vi ricordate quella bella rivalità che ci fu tra Kurt Angle e Brock Lesnar e a me piacerebbe vedere Brock come era Kurt Angle quindi una sorta di mentor ecco di insegnante e con invece il suo allievo Brombreker che poi gli si è rivolta con o viceversa sì insomma una cosa a me piacerebbe vederlo in quei panni ecco che sarebbe una cosa inedita una cosa nuova ecco anziché il solito match arrivo spacco e me ne vado mi darebbe secondo me più più coinvolgimento ecco mi piacerebbe molto di più questa questa cosa qui ecco ecco